Ciao a tutti, Pallavolo la considero una gran famiglia. Io porto i saluti dall'Unione Sportiva Borgnese, il settore Pallavolo è uno dei più prolifici. Devo ringraziare il consiglio del Pallavolo per tutto quello che hanno fatto. Grazie, è veramente di cuore. Musica Vorrei dire che adesso il palazzetto Peppino Pedransini è diventata la nostra casa. Il ricordo di Peppino è diventato memoria e la memoria è diventata un segno. Grazie va sempre comunque al nostro Peppino Pedransini. Non ha meglio, non ha fatto assolutamente nulla, se non quello di ricordarlo nell'unico modo che mi sembrava giusto fare, che era quello di titolare la palestra. Peppino Pedransini potrà essere grande, lui ha una grande famiglia. Peppino Pedransini potrà essere grande, lui ha una grande famiglia. E adesso ci prendiamo la pausa, un tie break estivo, un po' più lungo del tie break normale, auguri a tutti e buona estate! Grazie a tutti! Grazie a tutti!